Claudio Sacconi Pedofilia e fascismo su Facebook. 18 giugno 2020. Pubblicammo questo post circa un anno fa, adesso penso sia il momento di riportarlo alla memoria visto il dibattito che si è aperto se rimuovere o no la statua di Indro Montanelli. Si può scindere il giornalista dall'uomo, e si può veramente affermare che uno è un grande uomo solo perché viene considerato un grande scrittore a prescindere da ciò che ha fatto. Non credo ciò sia possibile, è la somma dei suoi atti che determinano se qualcuno può essere considerato una grande persona. È un lungo testo spero abbiate la voglia di leggerlo fino in fondo. Si scrive, mad amato, ma si legge, stupro legalizzato. Un termine usato nelle ex colonie italiane, prima in Eritrea e successivamente anche nelle altre colonie, Libia e Somalia. Mussolini Cole, mad amato, permetteva a tutti i fascisti la propria bambina, 7, 8, 9, 10, 11 anni, dentro il letto. Non solo ai militari, ma anche ai civili. Credo sia ovvio che solo un pervertito pedofilo può permettere tale scempio, una persona normale non la penserebbe nemmeno una schifezza del genere. Tra l'altro sono tante le testimonianze di presunti stupri ai danni di ragazzine che hanno avuto la sfortuna di incontrare Mussolini. Ecco ciò che scriveva in Italia la propaganda fascista nelle sue riviste e nei suoi quotidiani, non si sarà mai dominatori, se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Con i negri non si fraternizza, non si può e non si deve. Il mad amato, oltre alla schiavitù sessuale produsse un'altra atrocità, non secondaria, i bambini nati da questi abusi. Il fenomeno portò alla nascita e al contestuale abbandono di migliaia di figli, metici, non riconosciuti dal padre la cui unica sorte era quella di essere abbandonati. Oltre a Mussolini, un personaggio italiano famoso, Indro Montanelli, confessò, in un'intervista del 1982, la trovate su YouTube, di aver avuto, grazie al mad amato, una bambina di undici anni e mezzo nel proprio letto, si chiamava Fatima e la definiva un animale inodocile. Il mad amato segnava il dominio autoritario e assoluto del colonizzatore sull'indigeno, dell'uomo sulla donna, dell'adulto sul bambino, del libero sul prigioniero, del ricco sul povero, del forte sul debole. Il mad amato fu abolito dagli stessi anni dopo, per lo scandalo che si innalzava viste, oltre le morti delle bambine a causa delle violenze sessuali anche quelle per complicazioni durante e dopo le gravidanze. La gente sul fascismo sa ancora ben poco e i fascisti non leggono, non leggeranno tutto l'articolo, quelli non hanno cultura né coscienza ed inizieranno a insultare. Molti credono ancora ai treni arrivati in orario e altre idiozie diffuse da questa gentaglia. Sul mad amato potete documentarvi quanto volete, sbaglierete se cercherete informazioni su blog e pagine fasciste, ma sarà facile trovare l'intervista di Montanelli e documenti a riguardo in rete. Potrete capire chi avrete di fronte quando cercheranno di insabbiare questa triste e amara storia. Antonella Rapari, stralcio da un'intervista a Montanelli sul mad amato relativo all'infibulazione della bambina che lui comprò insieme a un cavallo e a un fucile per 500 lire. Faticai molto a superare il suo odore dovuto al sego di capra di cui erano intrisi i suoi capelli, e ancor di più a stabilire con lei un rapporto sessuale perché era fin dalla nascita infibulata, il che oltre a opporre ai miei desideri una barriera pressoché insormontabile, ci volle, per demolirla, il brutale intervento della madre la rendeva del tutto insensibile. Neanche un atto terribile come quello cui accenna dell'apertura dell'infibulazione, pratica terribile e dolorosissima, è riuscito a fermarlo dal consumare il suo matrimonio e poter finalmente soddisfare i suoi desideri. Il distacco con cui ne parla riporta alla mente le parole con cui la descrive, lei era un animale inodocile. Quando me ne andai la cedetti al generale Pirzio Biroli, un vecchio coloniale che era abituato ad avere il suo piccolo harem, a differenza di me che ero monogamo perché non potevo consentirmi grandi lussi, come si lascia un cane o un altro animaletto. Sono passati 70 anni ma sento nella mia pelle e nel mio corpo la paura, il dolore, la solitudine di questa bambina, non ancora donna ma costretta a diventarlo dall'egoismo di un uomo che non è mai riuscito a provare neanche la più piccola vergogna o rimorso per ciò che ha fatto. È questo che piacerebbe avere a tante brave persone di casa nostra, quelli che non vogliono gli sbarchi ma che vanno a pagare le ragazze e sempre più giovani che finiscono sulle nostre strade. Degli animaletti docili con cui poter fare ciò che vogliono a poco prezzo perché non possono permettersi grandi lussi? Marilena Adelina